Attenzione! Allora è arrivato il momento della verità, è arrivato il momento della verità, innanzitutto lei oggi ha ricevuto dai romani manifestazioni di solidarietà, l'entusiasmo dei romani l'ha percepito? Sì, sì, direi che per Roma è un bel momento. Per Roma è un bel momento, ma si aspettava un risultato così eclatante, una vittoria così eclatante? No, come ho già detto non me l'aspettavo. Scusate, io sto camminando in più. Un secondo, un secondo, sto camminando nell'acqua. Scusate, scusatemi, un'altra cosa, ma secondo lei è un voto nazionale oppure no? Pensa che si possa parlare, come dire, di un voto nazionale oppure no? Scusate. Scusate, ragazzi! Scusate, ragazzi! Scusate, ragazzi! Certamente!